Un saluto a tutti gli ascoltatori e bentornati con le previsioni di Trebi Meteo. Giornata di mercoledì che vede l'anticiclone ancora presente sulla nostra penisola, tuttavia una perturbazione, transita oltre Alpe e nel corso del pomeriggio porta un po' di nuvolosità e rischio anche di qualche fenomeno all'estremo nord-est. Lo vediamo anche dalla carta della nuvolosità, come notiamo nubi medio-alte in transito sulla nostra penisola, lasceranno tuttavia intravedere il sole, qualche fenomeno è atteso solo sulle estreme regioni di nord-est e lo vediamo anche dal dettaglio delle precipitazioni, come notiamo il fronte che lambisce le regioni di nord-est porta alla formazione di qualche rovescio temporale soprattutto su Alpi orientali e localmente sulle prealpi friulane, altrove tempo asciutto e come notiamo temperature che sono in ulteriore aumento. Lo vediamo nel dettaglio della previsione, quindi ampi spazi di cielo sereno su molte zone della nostra penisola, come dicevamo prima il transito magari di qualche velatura o stratificazione, il rischio di isolati fenomeni su Alpi orientali e prealpi friulane, altrove tempo asciutto e con temperature che sono in aumento, come notiamo le massime, già localmente toccano i 30-31 gradi, ma per maggiori dettagli comunque scaricate l'app gratuita di TrebbiMeteo.